ciao a tutti ragazzi io sono andrea e benvenuti in questo nuovo video prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su instagram al link che trovate qui sotto in descrizione signori nerd unboxing nerd unboxing un po particolare perché mi è arrivato questo pacco da youtube prima di aprirlo ci tenevo a dire due parole tra cui ringraziarvi ringraziarvi tutti quanti vi ringrazio veramente 100.000 per non citare il 3000 di tony stark perché può essere una fesseria l'avevo già detto quando avevo raggiunto questo risultato ma per me 100.000 iscritti su youtube vuole dire tanto vuole dire tanto perché questo era il traguardo a cui ho sempre guardato perché youtube a 100.000 iscritti ti manda questa cosa qui e ho sempre guardato con ammirazione chi nei suoi video faceva vedere alle sue spalle questa targhetta il silvio e il batto che youtube ti manda una volta superati i 100.000 iscritti so che potrebbe essere una fesseria so che c'è un sacco di gente che ce l'ha già da anni e anni c'è chi si apre i canali e nel giro di due mesi raggiungi 100.000 iscritti se lo prende la mia è stata una scalata abbastanza lenta sono su youtube ormai da otto anni ho avuto questo boost anche da parte vostra che vi do ringraziare nell'ultimo anno sono cresciuto parecchio grazie anche tutti i vari prodotti marvel che sono usciti e niente volevo veramente ringraziarvi tantissimo ammetto che sono sinceramente emozionato e tra qualche giorno mi sposo quindi capiate che sono in un periodo in cui sono carico di emozioni signori ok ok congratulazioni per il tuo risultato sono onorati di renderti parte di questo regalo rick vabbè se il tuo coso si è danneggiato spero di no durante il tragitto bla 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 oddio ma è nuovo pure adesso adesso lo vediamo ti ricordi il tuo primo iscritto penso che sia stato mio fratello o ero io con un secondo account il tuo centesimo il tuo millesimo ci sono cose che non cambiano i tuoi fan ti hanno magari trovato cercandoti su youtube hanno imparato a conoscerti siete diventati amici oppure ti hanno visto te video raccomandati non importa come sono arrivati al tuo canale se c'è una traduzione simultanea perché in inglese ma sono rimasti hanno portato un numero a crescere perché la tua voce unica il tuo il tuo stato d'animo ha fatto sì che la tua community crescesse siamo onorati di vedere la tua community in questa maniera e siamo onorati di mandare che è raggiunto i 100.000 iscritti con questo silver creator award congratulazioni sappiamo che hai molte storie condividere con la tua community e noi sappiamo che i tuoi fan non vedranno l'ora di vedere nuovi tuoi contenuti creatività quindi continua a creare continua a costruire non vediamo l'ora di vedere quale sarà il tuo prossimo risultato e chi lo sa magari quando raggiungerai il tuo milionesimo iscritto potremmo scriverti ti ricordi il tuo centomillesimo iscritto grazie susan jocibic ceo di youtube signori il mio primo e penso anche unico riconoscimento che riceverò e che ho ricevuto da youtube il silver button ha dato a nerd movie productions l'hanno scritto giusto per aver passato i centomila iscritti quello vecchio era dentro un quadretto ma devo ammettere che questo non mi dispiace affatto soprattutto perché c'è la parte specchiata ragazzi grazie veramente grazie 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 non mi stancherò mai di ringraziarvi vi ringrazio veramente per il supporto su youtube per instagram per il supporto che mi state dando nelle live grazie adesso lo appendo là dietro dove ho lasciato lo spazio praticamente da quando mi sono trasferito in questa casa nonostante mi mancassero praticamente 40.000 iscritti quando sono arrivato qui tre anni fa ero tipo sui 60 però mi sono sempre tenuto da parte un angolino alle mie spalle dove poterlo appendere quindi credo sia finalmente arrivato il momento grazie ancora tantissimo grazie amici di youtube e ci vediamo presto per nuovi contenuti e si spera magari che il prossimo video sia la reaction al trailer di spider man che continua a non uscire mi è arrivato il silver button ho fatto 100.000 iscritti ma il trailer di no way home continua a non palesarsi ciao a tutti ciao 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 ciao